Una valle incantevole, non a caso meta dei turisti più esigenti, con auto annesse. Così dopo il traffico e parcheggi selvaggi dell'estate 2020, il comune della Val Masino ha trovato una soluzione tutta green. Proprio in forza di quella esperienza abbiamo innanzitutto sistemato tutta l'area parcheggio, però abbiamo preferito, più che aumentare l'area parcheggio, implementare la mobilità green, in modo tale che senza spostare la macchina ci si possa godere tutta una giornata nella splendida Val Masino. Come si può raggiungere la valle? Nella mattina, ad ogni ora, ci sarà la possibilità di arrivare col treno da Milano e trovare un pullman per raggiungere la Val Masino fino ai bagni di Masino. Le stesse coincidenze corrispondono per chi arriva in treno dall'alta valle, quindi da Tirano in giù. Una volta che i villeggianti hanno raggiunto la Val Masino senza la propria auto privata, come si possono spostare all'interno della valle? All'interno della valle abbiamo fatto in modo di avere anche dei servizi di navetta interna che da Cataeggio arriva fino a San Martino e viceversa. La Val Masino cura il suo turismo dalla partenza all'arrivo, ma soprattutto durante la permanenza. Tante le iniziative e gli appuntamenti promossi. Quest'anno il programma è molto fitto. Siamo riusciti, nonostante l'emergenza sanitaria, a programmare tantissime iniziative, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza Covid, sull'alpinismo, l'escursionismo, le passeggiate, con l'accompagnamento di guide alpine o di accompagnatori naturalistici. Avremo tantissime iniziative anche per i bambini, quindi tutte le settimane, nei weekend, ci saranno delle animazioni sia ludiche che scientifiche che naturalistiche, anche per i più piccoli, e ci saranno delle proposte anche durante la settimana. Non mancheranno i concerti, non mancherà la cultura, le mostre e le visite guidate su aspetti delle tradizioni e della storia e della cultura dei posti.